Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gioca del WC2000 e oggi facciamo un'altra partita su FIFA 17, Ultimate Team ecco lì il mio avversario, eccolo, lo vai cosettando, mettiamo magari il Manchester City, vediamo il mio avversario che squadra ha, ha una, ha una squadra che cambia da transizione, c'è una, una Ligana, cioè c'è Cyber Ligana, poi la Lig, poi abbiamo Snyder, un miss di squadra, un miss di giocatore che fanno partiti diversi, cambia da transizione forse nella si comincia ci siamo, possiamo cominciare Gioca del WC Prova Inizia e subito la Ligana non la vale non mi conosco, perché è il passaggio adesso il giorgimento non riesce a negare recuperarlo ecco qua attenzione un bug Milik hai Milik, hai sei da solo Milik, sei da solo hai Milik, tira Milik, tira 1-0 ragazzi, 1-0 grande Milik, grande 1-0 ragazzi, 1-0 tra il quarto minuto tra il quarto minuto tra il quarto minuto a quinto, scusate, a quinto minuto qua Giorginio che riesce a rubrare e valla a Giacchini che ora la verde Giorginio Isai valla a già la vasta Giacchini che scatta sulla fascia è crossa ma la difesa difensore è spazza ecco la Giorginio la recupera se questo lag si ne va vediamo cosa succederà attenzione Milik Milik e il portiere è la vara ragazzi caraccione angolo quando batte l'angolo ma Goulam invece sta attaccare di testa quindi la palla va a andare a difensore e così è stato e poi Giorginio Allan la verde ma la recupera anche Goulam Goulam sulla fascia il Milik e il difensore la brilla difensore avversario la brilla adesso stanno ripartendo gli avversari tendono un passaggio ma non riesce quindi la palla va a Reina Goulam e la verde attenzione ma Maximo non ce la riprende Giacchini Alan Milik Milik Giacchini ma sarà la nostra sarà la nostra sarà la nostra Goulam Alan Alan Isai è un lag che ci disturba come è sempre il lag Giorginio attenzione attenzione che non stai attenti ma di solito Maximo non ce la riesce a prendere la squadra avversaria riconquista il pallone l'amore grande scatto Giacchini scatta Giacchini scatta Giacchini scatta uno adesso la nostra Giorginio vai giorginio malavette buon recupero del pallone Vieni a tenzone, vieni a tenzone, tenzone Grande Vibali e riesce a prenderlo Giorginio, Milik Malverde Milik Attenzone, attenzione, attenzione A pareggiare il giro, non a pareggiare, non sono più in vantaggio, ma un punto, lo ricordiamo, basta per riferire la promozione che c'è da oggi in anticipo. I balcambioli decidono che in linea medica è un troppo grande, purtroppo il balcambioli si deve ottenere i balcambioli. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'unore. Adesso lo riusciamo in giornale in bandaggia, gioca in linea, Milik, non riesce a passare bene per l'or, quindi la palla prende, il terzino si straurì. Il terzo bar è l'app Il pallone se ne va via Giorginio 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 Risai Alla E non riesce a fare il passaggio Alla Perché l'avversario l'ha tolta Alla Per Insigne 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 Gula Gula Milik Calcio d'accordo Vai Palla che finisce in corner Guli Palli attenzione Gisai 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 dove il tiro Ripatte il difensore Gisai Gisai Si avvicina l'area Attenzione nel rock Ulama Vai blanco Giorginio Il tiro La vede facilmente Attenzione adesso Attenzione La maxima La maxima La maxima Attenzione Grande Grande Ulibari Grande All'ultimo Milik Vai 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 A Giaccherini Vai A Giaccherini Vai Potendo un ballonetto Il portiere La valenda Attenzione Milik Un'altra valenda Il portiere È stato fermato dal difensore Fuori Quindi la remessa Allora Per loro Ma quando ha subito il primo gol Il portiere E sta parando tutti I dist Mi sta parando Adesso abbiamo stato Sulla tenda in difesa Ancora il lag Di sub Il gol E' qua E' gullando La recupera La vede Vai Giorginio Ma La difesa La riesce a recuperare Ma ancora Giorginio Quarto uomo Attenzione Il Tensione 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 Ricola Ricacci Ricola 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 Adesso Rischiamo Adesso Iniziamo 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 per questi gol e ha fatto un'altra sinistra quindi ci sentiremmo la giura che mi ha persato quindi dobbiamo mettere il 2 a 1 ma non è possibile lì ho fatto 8 dighi e un gol lui 3 dunia fa cioè non è possibile comincia la seconda passione di gara non ci vinceremo occhio al suo movimento e Giorginio rende l'attenzione terzo gol terzo gol terzo gol terzo gol terzo gol hanno bisogno di un punto basta un punto ma difficilmente lo troveranno difficile che possano rientrare in partita è come se sono messe le cose cercherei di risparmiare l'energia terzo gol terzo gol è ben giubito mi ha raggiunto andare davvero chiediamo da puntare da parte per ammela per paneggiare almeno questo partito è un'altra è un'altra c'è spazio per andare ai milicai tira ai milicai tira tira tiro largo fuori verso tiro sbagliato tiro sbagliato proprio Giorginio Vai prendila Giorginio E non riesce a prender Attenzione La recupera Benzigne Vai Giorginio Giorginio Vai Per Milik Giorginio Vai E non riesce Milik Quindi la palla Prende la difesa Attenzione Giorginio Mai ve la recupera Vai Jacky Jacky Milik 3-2 3-2 3-2 3-2 Assolutamente da rivedere Il piazzamento del portiere Si è fatto sorprendere In maniera clamorosa Ai Milik 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 A per fare la differenza Per l'ultima Attenzione Alan Inzigne Esce E recupera il pallone Per poco Non facciamo In Parigi L'argo per poco Grazie a questa grande occasione Attenzione Noc Si avvicina l'area Vai Ma Il passaggio Non riesce E va Alline vai nel portiere Attenzione Giorginio Vai Giorginio Per l'insigne Buon possesso Palla Inzigne Costa E alla Tira Alla Falla fuori Alla fuori Si ha colpito bene Questa È stata Una buona opportunità Sprecata Occhio Cerca l'area di rigore Ma la pagate Rock Giorginio Ma la perde Proprio ora La perde Quindi sarà Calcio di punizione Per me Uribani E attenzione Milik Troppo Dace nel fallo Perché Giorginio La sping Attenzione Rock Rock Zigne Rock Attenzione Rock Rock Passaggio A Giorginio A Giorginio Divenzo La riesce a prendere Attenzione Raga Attenzione Noi non so Rattendi Qua Ulan Esci Rai Nesci Ottimo Uscita Rai Adesso Andiamo avanti Uribani Giorginio Rock Giorginio Passa la Milik Giorginio Vai Milik E non mi dice Milik Alla Rock Vai Rock Vai Giaccherini E divenzio Attenzione La prende Ma l'Allan Ma l'Allan Riesce a recuperare Perfettamente Dunque Alla Attenzione Rischio È già Abbonito Attenzione Forza Forza Il calcio di punizione Per il mio avversario Quindi la valle Ancora Sulla I vidi Del mio avversario Grande Perfettamente Vai Giorginio Ma ripartiamo Ripartiamo Vai Giaccherini Vai Vai Giorginio Mare Rifermare E Si ferma Perché non Giorgia la guardate Fino alla porta Stam Come si vede Attenzione Grande Ma che si Chi sai Rock Vai E non Arbitro che qui Vorrebbe tirare fuori Cartellino Manca Ancora Un quarto D'ora La fine Da lì Viene Il mio avversario Occhio al suo movimento Attenzione Tutta la sua differenzione Che occasione Questa Non è troppo timido Qui Facciamo tirare Traversa Traversa Tutto Tutto Una volta Inseglie E' un'altra Inseglie E' un'altra Inseglie Passano Rai Minicai Minuti Di grande Intensità Adrenalina Al Minic Ha Giorgini Inseglie 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 E' L'altra Inseglie Il mio avversario C'è Divenuto Inseglie Continua Il tiki Taka Alla Ricerca Del momento Giusto Stiamo Attenti Ferma Ma non controlla Inseglie Inseglie E' un'altra Inseglie Partirà Con una Rimessa La Terra Perché non è presa la Palla Grande Pallone E' uscito Alla Inseglie Forza La C'è Inseglie Giorno Sultima Speranza Forza Vai Alla Vai Alla Vai Alla Tiro Alla Tre 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 Vi Ricordo Ovviamente Che basta Un punto Per conquistare La Promozione Possono Giocare Con calma Con equilibrio Senza Troppa Pressione Anche Ovviamente Il campeonato Miniciano Nostro Così Sì 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 Tutto Resta poco Da giocare Questo potrebbe essere Anche Il risultato finale Salvo Sorprese Milic Perde palla Maggio Generale E' la betta Passaggio E' la rosa 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 Ai Milicai Non riesce a rosa Non riesce a rosa Non deve essere Punizione Per noi Sì Punizione Per noi Ragazzi Punizione Per noi Non riesce a girarsi Attenzione 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 Maximo Non ci prendo Maximo Non ci prendo Attenzione Grande Pulibani Grande Ottima Fermata Ragazzi Raga 3 E' la rosa Grande Spettacolo Quell'offerto In campo Dei due Attacchi Capaci Si avvicina All'area A un'autostrada Raga Prima Raga La mia Raga Questa è una partita Sulla ragazzi Con tutto il secondo tempo Con tutto il secondo tempo Raga Raga Spero che questo video Vi sia piaciuto Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscriviti Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao